Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo di un'altra zona rossa in Sicilia, parliamo nel comune di Siracusa di Sortino che appunto entra in zona rossa per il numero dei contagi. Uno sguardo lo daremo anche per quanto riguarda i numeri dei nuovi positivi in Sicilia, alto il numero dei guariti che raggiunge 913 secondo i dati di ieri alle 18 del bollettino del Ministero alla Salute, ma vediamo tutti i dettagli. Da oggi fino al 5 maggio Sortino entrerà in zona rossa. Il provvedimento è stato adottato a seguito della relazione dell'azienda sanitaria provinciale necessario per l'aumento considerevole del numero di nuovi positivi al Covid. Il sindaco Vincenzo Parlato aveva già firmato un'ordinanza con cui sospende temporaneamente la didattica in presenza per gli studenti residenti nel territorio comunale e per i pendolari che frequentano gli istituti superiori della provincia fino all'8 maggio. Ieri ha emanato un ulteriore provvedimento con cui dispone per tutta la durata della zona rossa la chiusura del cimitero comunale, apertura prevista solo per tumulazioni con un numero massimo di 15 familiari, chiusura anche per la Villa Comunale e Villa delle Rose, poi ancora la sospensione del mercato settimanale e la chiusura degli impianti sportivi. Disposto anche il divieto di stazionamento nelle piazze e nelle adiecenze attività commerciali. Intanto uno sguardo a livello regionale per quanto riguarda i nuovi contagi dal Covid-19 scendono sotto i mille i nuovi soggetti positivi. Infatti il numero è di 940, così come riporta il bollettino di ieri alle 18 del Ministero alla Salute. Sostanzioso il dato dei guariti che è di 913 persone che sono riuscite ad uscire dal Covid anche con le cure domiciliari. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto al dato precedente vede un decremento complessivo di sei unità. In terapia intensiva in tutta la regione sono 168 persone, sei in meno rispetto al dato precedente, 33 invece i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 9.911 invece 18.851 quelli rapidi. Il report dei nuovi positivi nelle province è così distribuito, 10 a Enna, 44 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 55 a Trapani, 71 a Messina, 71 anche a Siracusa, 84 a Grigento, 204 a Catania, 349 a Palermo. 15 milioni di euro dalla regione siciliana per le aziende agricole che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo del lockdown del 2020. Sentiamo quindi i dettagli e da quando si possono presentare le domande. Per il settore agricoltura a disposizione dalla regione siciliana 15 milioni di euro per le imprese colpite dal lockdown del 2020. Per ogni singola impresa agricola siciliana un aiuto a fondo perduto da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 15.000 a disposizione delle aziende che hanno subito nel periodo che va dal 12 marzo al 4 maggio 2020 una perdita più del 60% rispetto all'anno precedente. Dal 5 maggio sarà quindi possibile presentare le domande con in allegato la documentazione che attesti il calo del fatturato nel periodo specifico. Questo è un segnale che il governo Mosumeci vuole dare ai produttori agricoli, soprattutto quelli che si occupano di produzione primaria. Sappiamo che stiamo vivendo davvero un momento sul piano economico complicato. Questa emergenza sanitaria sta mettendo alle corde davvero importanti i polmoni economici. Questo è un segnale per dire che la politica vuole concretamente dimostrare che vuole fare la propria parte per guardare con ottimismo al futuro. Sono 15 milioni di euro che appunto dedichiamo a questa iniziativa che consentirà agli venditori agricoli di poter avere un ristoro rispetto alla perdita di fatturato nel 2020 che è il periodo del lockdown rispetto all'anno precedente. Uno sguardo al futuro con speranza e rilancio, un provvedimento necessario rivolto alle piccole e medie imprese agricole siciliane, possibile dalla copertura finanziaria approvato con il patto di stabilità 2020-2022. Oggi è la giornata dedicata alle vittime dell'amianto. Nel 2020 in Italia 7.000 sono stati i decessi per esposizione alla fibra killer. Arriva l'appello dell'Ona, dice il governo Draghi utilizzi risorse del recovery fund per avviare le bonifiche e il bonus fiscale del 110% per la rimozione dell'amianto dagli edifici privati. In occasione della giornata mondiale delle vittime dell'amianto, l'Ona segnala come sia sempre più drammatica la situazione delle vittime dell'amianto in Italia per l'assenza di provvedimenti incisivi per la messa in sicurezza e la bonifica dei materiali in amianto e così lancia un appello al governo. Il governo che deve utilizzare risorse del recovery fund per avviare le bonifiche e il bonus fiscale del 110% per la rimozione dell'amianto dagli edifici privati. Nonostante sia stato messo al bando nel 1992, l'amianto continua a uccidere perché si trasforma in fibre invisibili che inalate e ingerite causano con assoluta certezza scientifica mesiotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei danni respiratori che causa anche quando non insorge il cancro, placche pleuriche, ispessimenti pleurici, asbestosi e complicanze cardiocircolatorie. Lo scorso anno può essere considerato l'anno ribilis per coloro che sono stati esposti ad amianto per via della pandemia covid che ha inciso su questi soggetti fragili rendendo pubblici i dati di morbidità e di mortalità delle malattie asbesto correlate denunciando il ritardo del censimento pubblico sia dei casi mesioteloma che delle altre malattie legate all'esposizione alla fiber killer. Dati di incidenza del mesioteloma in Italia nel 2020 2.000 casi con indici di mortalità del 93% a 5 anni, tumore del polmone e da amianto 4.000 casi riferiti solo all'asbesto, indici di mortalità a 5 anni dell'88%, asbestosi 600 casi, indice di mortalità nei 5 anni del 25%. In questo profilo in via prudenziale si stima che il numero dei decessi nel 2020, tenendo conto della maggiore incidenza per via del covid, sia di 7.000 persone solo in Italia, prevedendo il picco di mesiotelomi e di altre patologie asbesto correlate tra il 2025 e il 2030 e poi una lenta decrescita. L'Ona ha più volte segnalato anche la presenza di amianto in 2.400 scuole, stima del 2012 per difetto. La rete idrica invece rivela presenza di amianto per ben 300.000 chilometri di tubature, inclusi gli allacciamenti con presenza di materiale contenenti amianto rispetto ai 500.000 totali, tenendo conto che la maggior parte sono stati realizzati prima del 92, quando l'amianto veniva utilizzato in tutte le attività idili e costruttive. E come ogni prima domenica di maggio si festeggia il patrocinio di Santa Lucia, tutto è pronto, ma esclusivamente per dedicare dei giorni di preghiera alla Santa Patrona di Siracusa, perché a causa appunto dell'emergenza sanitaria in corso, ancora una volta nessuna processione che permette ai siracusani di poter riabbracciare la Santa Patrona. Sentiamo tutto nel servizio. Santa Lucia è pronta a riabbracciare la sua città, anche se non potrà esserci la processione. Anche per quest'anno, quindi, niente bagno di folla. La festa, infatti, sarà limitata alla sola parte liturgica. Ogni giorno due le celebrazioni, alle 8 ed alle 19. Sabato mattina alle 7.30, l'apertura della nicchia. Poi, dopo la Santa Messa delle 8, il simulacro sarà portato sull'altare maggiore, operazione che, però, avverrà senza la presenza dei fedeli. E in serata, alle 19, Monsignor Francesco Lomanto presiderà la Santa Messa. Domenica, giorno clu dei festeggiamenti, alle 10.30, il solenne pontificale presieduto dal vescovo ausiliare di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, Monsignor Cesare di Pietro. Al termine, la recita della preghiera delle regine a cieli, novità di quest'anno, che sarà ripetuta ogni giorno alle 12. Martedì 4 alle 20, una serata dedicata ai giovani e, in particolare, al beato Carlo Acutis, con la mamma che, in collegamento web, darà la propria testimonianza. A presiedere la celebrazione eucaristica dell'ottava sarà l'arcivescovo emerito di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo. Per quanto riguarda le regole di accesso in cattedrale, che resterà aperta ogni giorno, dalle 7.45 fino al termine dell'ultima celebrazione, valide le stesse misure adottate per i festeggiamenti di dicembre. Come ha detto il presidente della deputazione, Giuseppe Piccione, dopo la pausa del 2020, ritorna alla rivista con Lucia Cristo, con uno speciale ricco di testimonianze. Anche quest'anno seguiremo in diretta il solenne pontificale e poi, al termine, trasmetteremo un approfondimento sulla festa della Santa Patrona, diretta su Tris, quindi domenica 2 maggio, a partire dalle 10.20. A Cassibile pronto il villaggio per gli extra comunitari lavoratori stagionali. Domani l'apertura con la presenza delle istituzioni che in sinergia hanno collaborato affinché si provvedesse alla costruzione del villaggio di Cassibile. Sentiamo. Domani in via dei Timi, traversa di via nazionale a Cassibile, verrà aperto il campo destinato ai lavoratori extra comunitari stagionali. Un campo che in questa prima fase vede la realizzazione di 17 unità abitative e 6 di servizi igienici. Il nel sito di proprietà del comune di Siracusa, area di protezione civile, è stato attrezzato grazie alla collaborazione con la prefettura che ha avuto accesso ad un primo finanziamento del Ministero dell'Interno di 242 mila euro. L'apertura del campo segna l'avvio di altri due progetti. L'ufficio speciale per l'immigrazione dell'assessorato alla famiglia della regione siciliana che andrà ad assicurare una serie di servizi a chi alloggerà in questa struttura, dal trasporto nei luoghi di lavoro al pasto quotidiano. E poi il progetto ISIM, Integrazione Sanitaria Innovativa Multilivello, che garantirà la creazione all'interno del campo di uno sportello salute. Capofila di questa iniziativa è il comune di Siracusa con l'ASP 8, insieme all'IFO, istituti fisioterapici ospitalieri. Un percorso articolato che ha visto una proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli, Stato, Regione Siciliana, Comune di Siracusa. Domani, in occasione dell'apertura del campo di Contrada Palazzo, saranno infatti presenti, tra gli altri, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, il prefetto Giusi Scaduto, il dirigente generale immigrazione del Ministero del Lavoro, Tatiana Esposito, il capodipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, Michele Di Bari, e l'assessore regionale alle politiche sociali, Antonio Scavone. Proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Atti di violenza fisica e verbale nei confronti della ex compagna. Per questo è stato arrestato un uomo siracusano di 42 anni. Invece in via Santiamato è stato bloccato uno spacciatore con cinque dosi di cocaina. È una somma possibile provente di spaccio. Sentiamo. Arrestato un uomo di 42 anni, siracusano, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, porto d'armi e strumenti atti ad offendere. Durante i sei anni di convivenza, secondo i racconti della donna, maltrattava la compagna sia fisicamente, lanciandole oggetti d'uso quotidiano come posacenere, telecomandi, scarpe e sedie, sia moralmente rivolgendole insulti estremamente volgari e offensivi. Dopo sei anni di maltrattamenti, la donna decide quindi di chiudere la relazione, ma lui non accetta la scelta e non si rassegna. Inizia così a perseguitarla. Il 6 marzo la donna tenta di fuggire, allontanandosi con i genitori in auto, ma questo scatena la reazione dell'uomo che ha seguito l'automobile e lanciando dal suo finestrino una bottiglia di vetro che ha colpito il padre della donna, ferendolo. Appostamenti anche sotto casa dei genitori di lei, dove la donna vive. Tra l'altro, durante uno di questi appostamenti, sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno rinvenuto nell'auto dell'uomo una mazza da baseball. Gli episodi persecutori sono continuati fino a quando la vittima finalmente decide di denunciare l'ex compagno. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle volanti hanno eseguito l'arresto del 42enne siracusano. Tentava di disfarsi di 5 dosi di cocaina, nascondendola sulla parte superiore di un architrave in marmo della porta d'ingresso dell'ascensore del secondo piano. Gli agenti della squadra mobile hanno denunciato un siracusano di 25 anni, già noto alle forze di polizia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In via Santi Amato, il giovane, alla vista degli operatori, si allontanava con fare sospetto. In seguito dagli agenti fino all'interno dell'androne di un palazzo, l'uomo provvedeva a nascondere le 5 dosi di cocaina. Sottoposto a perquisizione personale, inoltre veniva trovato in possesso della somma di 150 euro, provento dell'attività di spaccio. Ci fermiamo per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale, durante la quale continueremo ancora a parlare di cronaca e andremo poi a parlare degli spettacoli classici. Quest'anno ci saranno al Teatro Greco di Siracusa le rappresentazioni classiche e poi uno sguardo anche allo sport. Questo è altro dopo la pubblicità. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. Con la loro storica esperienza nel campo della lavorazione del ferro e alluminio, i fratelli Zanghi garantiscono risultati eccellenti. Tecno Z, specializzati in opere metalliche in genere, avvolgibili in alluminio e PVC, coperture e zanzariere. Un'azienda che si adatta all'evoluzione dei tempi, con materiali innovativi e attrezzature sempre all'avanguardia per portare a termine e soddisfare le vostre esigenze. Serietà, competenza e qualità, i punti di forza di Tecno Z dei fratelli Zanghi. Serramenti in alluminio e taglio termico, infissi in alluminio legno e PVC, cuforte e ancora carpenteria metallica. A Siracusa, in Viale Pantanelli 3E, Tecno Z, progetta e realizza le vostre esigenze. Sono qui a presentarvi il nuovo centro di riabilitazione a Siracusa. Si occuperà di fisioterapia, di fisiatria sia in ambito diagnostico che anche dal puntista terapeutico. E ci occuperemo di medicina manuale di osteopatia, con la possibilità di effettuare dei trattamenti specifici, sia privati e in futura convenzione, appunto per la popolazione di Siracusa e della zona limitrofa. Ci occuperemo del paziente, dalla parte gestionale, dalla parte diagnostica, così come nella fase pre- e postchirurgica dell'eventuale successivo intervento. Ci occuperemo anche della parte conservativa, quindi la terapia fisica manuale, classica e la terapia fisica strumentale. Casa di cura Clinica Villarizzo, via Sebastiano Agati, Siracusa, info 0931 70 81 11 Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a parlare di cronaca, in particolare di una vicenda di aggressione avvenuta all'interno del carcere di Augusta. Si tratta di un detenuto straniero che ha malmenato un agente di polizia penitenziaria. L'aggressore, appunto, è un detenuto straniero che ha sempre mostrato segni di squilibrio, protagonista di danneggiamento di beni dell'amministrazione autolesionista, non nuovo ad aggressioni verso il personale. L'uomo ha afferrato per un braccio il poliziotto penitenziario nel tentativo di colpirlo ulteriormente. Solo la prontezza di riflessi e la professionalità del malcapitato e l'immediato intervento dei suoi colleghi ha impedito che l'aggressione per futili motivi venisse portata a compimento con conseguenze più gravi. Adesso il sindacato punta il dito contro il ministro della giustizia che non sembra interessato alla vicenda e per tale motivo hanno infatti scritto una lettera al capo del dipartimento di polizia penitenziaria per appunto chiedere più sicurezza all'interno della casa circondariale. Colpo di scena al processo per l'omicidio del priolese Alessio Boscarino, ricordiamo avvenuto nel dicembre 2016. Uno degli imputati ha ammesso di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio, scaggionando così il fratello e l'altro imputato. I fratelli Cristian e Roberto De Simone e Davide Greco hanno rilasciato dichiarazione spontanea al processo d'appello per l'omicidio di Alessio Boscarino, il 24enne ucciso la sera del 4 dicembre 2016, ai giardinetti di Via Tasso a Priolo. I tre imputati, collegandosi in remoto con la Corte d'Assise d'Appello di Catania, alla presenza del PM Gaetano Bono, hanno dato vita un colpo di scena. Ha parlato a lungo Cristian De Simone, il quale, nel confermare quanto dichiarato dal pentito catanese Sebastiano Sardo, ha raccontato che da diverso tempo la vittima avrebbe minacciato i fratelli De Simone e girava per Priolo armato di mazza da baseball e con un pitbull al guinzaglio. La sera dell'omicidio, i De Simone stavano consumando un panino in un locale pubblico di San Focà, quando sarebbe entrato Boscarino, che li avrebbe apostrofati. Per tutta risposta, Cristian gli avrebbe dato due schiaffi e la vicenda sembrava essersi chiusa lì. Tornando a casa, però, hanno notato che la vettura di Roberto De Simone era stata danneggiata e le due mogli si sarebbero barricate in casa per paura di ritorsioni. Boscarino si trovava dietro l'angolo dell'abitazione e a quel punto Cristian gli si sarebbe fatto incontro, nonostante il fratello e Greco lo avessero cercato di far desistere dal suo intento per sparare e ucciderlo. L'imputato ha detto dove avrebbe peraltro nascosto l'arma e la Corte ha dato mandato alla procura retusea di recuperarla. Anche gli altri due imputati hanno confermato la tesi di Sardo aggiungendo di non aver riferito prima questa versione dei fatti per paura di rappresagli nei confronti dei propri familiari. Gli avvocati forestieri e troie per i fratelli De Simone e Zizi per Greco produrranno le foto e le fatture relative alla riparazione della carrozzeria dell'auto danneggiata. La nuova udienza è stata fissata per il primo giugno. Proseguiamo ancora con la cronaca. È stato stroncato dai carabinieri un traffico illegale di cardellini. Parliamo della zona nord della provincia di Siracusa, invece sempre attivi i controlli anti-covid. Vediamo tutto nel servizio. Il nucleo carabinieri CITES di Catania ha scoperto un canale online attivo da Siracusa di commercio illegale di esemplari di cardellini. Si tratta di animali tutelati da apposita normativa internazionale e inclusa fra gli elenchi delle specie tutelate dalla Convenzione di Iberna facendo parte di fauna selvatica di cui è vietato il prelievo in natura e quindi la vendita. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno constatato che il detentore degli uccellini era sprovvisto di documentazione che ne attesti l'origine degli esemplari trovati privi di anelli identificativi. Il responsabile è stato quindi deferito alla procura di Siracusa mentre i cardellini sono stati sequestrati e affidati in custodia alla ripartizione faunistico venatore di Catania a disposizione della stessa procura etnea. I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito servizi volti alla prevenzione di reati in genere e al rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Durante l'attività i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 915 persone, 590 veicoli e hanno eseguito varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al codice della strada per un importo che supera i 15.000 euro. Sotto l'aspetto pandemico i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno dovuto sanzionare amministrativamente 37 persone per l'inosservanza dei decreti attualmente in vigore per un importo di circa 15.500 euro, sanzionati inoltre i titolari di tre attività commerciali per violazione delle disposizioni sull'asporto del cibo e del divieto di consumazione sul posto nelle adiacenze dei pubblici esercizi da parte dei clienti. Per gli stessi motivi è stata disposta la sospensione dell'attività per 5 giorni con relativo comunicazione alla prefettura di Siracusa. Tra gli altri servizi, sempre ad Augusta, l'esito di due perquisizioni personali domiciliari sono stati deferiti alla procura di Siracusa due giovani megaresi per detenzione illecita di varie dosi di marijuana. A seguito della perquisizione operate con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi e dello squadrone carabinieri riportato Cacciatore Sicilia sono stati segnalati alla prefettura siracusana due uomini trovati in possesso rispettivamente di 4 grammi di cocaina e di un grammo e 300 di marijuana. A Francofonte, un giovane del luogo, è stato denunciato alla procura poiché a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e occultati nella sua abitazione 5 grammi di cocaina. Continuiamo con la cronaca, in particolare parliamo dell'arresto di 26 persone a Messina. L'operazione portata a termine dai carabinieri prende il nome di Alcantara, un'operazione che ha sgominato due gruppi che spacciavano droga nei luoghi della movida di Taormina. Due gruppi gestivano la diffusione della droga nei locali della movida di Taormina di Giardini Naxos. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP su richiesta della DDA nei confronti 26 persone ritenute responsabili a vero titolo di associazione finalizzata al traffico di superfacenti, detenzione a fini di spaccio di superfacenti ed estorsione. Molti giovani tra gli indagati tra i 18 e i 24 anni e c'è anche un minore. Fino al lockdown lo spaccio della droga in alcune note discoteche e nei locali della movida notturna taorminese era gestito sulla base di consolidati accordi di spartizione delle piazze di spaccio tra i clan mafiosi Brunetto e Cintorrino che operano nell'area di Ijar, Fiume Freddo e Calatabiano, i quali alimentavano e controllavano anche il fiorente mercato della droga nella località turistica e della riviera ionica messinese. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti numerosi arresti in flagranze e sequestri di narcotici che hanno documentato il florido mercato riconducibile a due organizzazioni criminali che si avvalevano di numerosi giovani tra cui anche minorenni per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana e ricorrevano all'intimidazione e alla violenza per il recupero dei crediti maturati a seguito della vendita della droga. L'inchiesta alla compagnia dei carabinieri di Taormina denominata Alcantara è stata avviata nel settembre del 2018 dopo l'arresto in flagranza di un minore trovato in possesso di un chilo di marijuana, 15 grammi di cocaina e 11 di hashish. Gli accertamenti sviluppati al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Taormina hanno consentito di individuare le due organizzazioni criminali che gestivano il traffico, la prima nel territorio di Gaggi e nella valle dell'Alcantara, la seconda a Giardini Naxos e Taormina. Tornano le rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa. Dal 3 luglio al 22 agosto ci sono due ritorni, si prevedono due ritorni di spettacoli e un esordio assoluto. Vediamo tutto nel servizio appunto quali sono gli spettacoli in programma e si comunica che già da domani sono aperte le prenotazioni per le rappresentazioni classiche. Vediamo. Al teatro greco di Siracusa tornano le rappresentazioni classiche. Da domani il via alle prenotazioni per gli spettacoli che vedono quest'anno in programma le baccanti di Euripide per la regia di Carlos Padrissa, Quefore e Eumenidi di Eschilo con la direzione di Davide Livermore e le nuvole di Aristofane con la regia di Antonio Calenda. La Fondazione Inda ha programmato per la stagione 2021 tre produzioni inedite che mirano a rinnovare il dramma classico attraverso lo sguardo di grandi artisti contemporanei e ripropongono in parte il programma del 2020 annullato causa Covid. La 56esima stagione in programma dal 3 luglio al 22 agosto 2021 prevede due ritorni e un esordio assoluto. Esordisce infatti al teatro greco di Siracusa con la regia delle baccanti il catalano Carlos Padrissa, noto per le sue capacità di riscrivere il linguaggio del teatro contemporaneo. Dopo il successo di Elena di Euripide nel 2019 torna nuovamente a Siracusa Davide Livermore fra i registi italiani più apprezzati del momento. Ritorna infine Antonio Calenda, uno dei maestri della regia italiana che dirigerà la commedia Le nuvole di Aristofane. L'ifigenia in tauride di Euripide con la regia di Jacopo Gasman è riprogrammata invece nel 2022. A partire da domani quindi sarà possibile prenotare i biglietti per la stagione 2021 e convertire i biglietti acquistati nel 2020 per assistere agli spettacoli in programma quest'anno. Restiamo sempre in tema degli spettacoli classici al teatro greco ma andiamo a parlare della capienza degli spettatori perché sul tema Stefano Zito e Paolo Ficara hanno presentato un'interrogazione parlamentare. Sentiamo cosa dicono. Come lo scorso anno anche per la stagione degli spettacoli classici ieri annunciata si prevede che la regione siciliana possa concedere la deroga per la capienza massima degli spettatori al teatro greco di Siracusa. Il parlamentare Paolo Ficara pochi giorni addietro ha presentato un'interrogazione alla Camera dei Deputati. L'ultimo decreto sulle riaperture ha fissato i nuovi criteri per i teatri italiani sia per quelli all'aperto che quelli all'acchiuso. Se il limite è fissato ai mille spettatori la regione può derogare nel caso particolare e certamente unico in quanto esclusivo del teatro greco di Siracusa. La fondazione INDA ha avviato l'interlocuzione con gli uffici parerimitani. Tutti in regione conoscono l'INDA e la sua attività per cui Ficara si aspetta che senza indugi arrivi l'attesa deroga che consentirà la sostenibilità economica della stagione prossima avventura degli stessi spettacoli classici. Altrimenti Siracusa rischia di perdere anche questo patrimonio di cultura e di economia. Sullo stesso tema il deputato regionale Stefano Zito ha depositato una mozione con cui chiede all'assessore al turismo di adottare misure meno stringenti per il teatro greco di Siracusa prevedendo una deroga ad hoc alla capienza da portare almeno 2500 spettatori oppure un numero superiore qualora ciò fosse reso possibile dalle condizioni dei luoghi e sempre nel rispetto delle normative anticontagio. Per Zito, che ricorda la storia e il valore degli spettacoli prodotti alla fondazione INDA, bisogna provare a salvare la stagione 2021 consentendo di organizzare una stagione teatrale sostenibile dal punto di vista economico e al contempo contribuire alla ripresa dei flussi turistici e dell'economia del territorio siracusano. Andiamo adesso a parlare di sport. Parliamo di sport andando ad attenzionare il campionato di eccellenza, oggi la decima giornata, il match clou è fra la capolista Giarre e il Siracusa che ambisce a ridurre le distanze. Scontro al vertice oggi pomeriggio nel girone B del campionato di eccellenza di calcio. Il Giarre, capolista a punteggio pieno di questo anomalo torneo, ospita il Siracusa che lo insegue quattro punti sotto. I gialloblu allenati da Gaspare Cacciola hanno il vantaggio non solo di giocare tra le muramiche, anche se privi del pubblico, ma del doppio risultato. Vantaggio in classifica infatti pone l'11 Megarese nella condizione privilegiata di gestire la gara a piacimento. Per il Siracusa invece, dopo l'inatteso stop casalingo contro l'Enna, la partita odierna diventa quasi decisiva per le ambizioni di promozione diretta alla Serie D. Dopo questa giornata mancheranno solo quattro partite e si riduce alquanto la possibilità di recuperare lo svantaggio dal Giarre. Se la squadra di casa dovesse vincere anche contro gli azzurri, metterebbe tra sé la seconda in classifica un vantaggio di sette punti, atteso che l'Igea Virtus, terza in classifica con 15 punti, oggi osserva un turno di riposo. L'arbitro del match clou, che inizia alle 16.30, è Vincenzi da Bologna, coaduato da Conti e Florio. Per quanto riguarda le altre siracusane impegnate nell'odierna decima giornata del campionato di eccellenza, il Palazzolo affronta in casa l'Atletico Catania, mentre il Carlentini va in trasferta per affrontare la Iognica. Dopo lo sport, adesso le previsioni meteo. Previsioni per oggi. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, schiarite con transito di velature sparse. A sud, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, schiarite con transito di velature sparse. Il nostro telegiornale termina qui. Noi vi ringraziamo sempre per l'attenzione dedicata e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS